Ha scritto persino al ministro degli interni Marco Minniti, al governatore del Veneto Luca Zaia e poi al questore, al prefetto e alle forze dell'ordine tutte. Quella dei profughi ospitate all'hotel Pacifico di San Pietro in Gu è una questione che continua a sorriscaldare l'animo del sindaco Gabriella Bassi. Il primo cittadino scrive all'indomani dell'arrivo in comune di una lettera a firma cooperativa Contè, nella quale si informa, leggiamo testualmente, che un richiedente asilo ospite presso la struttura Sita San Pietro in Gu dall'8 maggio e ancora in attesa delle generalità ufficiali della questura di Padova, in data 16-7-2017, è uscito dal progetto di accoglienza. In sostanza, domenica, uno degli ospiti della cooperativa, di cui non si conosce neppure il nome, se n'è andato, dove ovviamente non è dato sapersi e pertanto, sottolinea la stessa cooperativa, i richiedenti asilo sono rimasti ora 47. Una comunicazione, quella protocollata nelle scorse ore in comune, che ha mandato su tutte le furie il sindaco Bassi, che per questo ha scelto di rivolgersi direttamente al ministro, rivolgendo alcune precise domande. Come si può garantire, si chiede il primo cittadino, la sicurezza al popolo italiano? Come si fa ad escludere che quelli che scappano non appartengono ad associazioni terroristiche? Perché il governo, continua Gabriella Bassi, mette a rischio la vita dei cittadini italiani a favore di persone sconosciute? E ancora, i profughi, quando arrivano vengono foto segnalati e per ultimo perché, da sei mesi, si chiede il sindaco, non mi vengono fornite le generalità e le foto di chi è arrivato nel mio paese e di conseguenza anche di chi scappa? Domanda alle quali Gabriella Bassi pretende ora venga dato una risposta in fretta.